Ciao ragazzi, benvenuti a questa seconda settimana Second Week di lezioni, sono felice di potervele mostrare. Per me è molto importante riuscire ad avere contatto con voi, è molto importante fare queste lezioni così possiamo andare avanti con gli argomenti importanti del nostro programma che poi dopo con calma rivedremo insieme. La lezione di oggi è una lezione un po' particolare, è una lezione nuova e parliamo dei comparativi di maggioranza e uguaglianza. Ringrazio chi utilizza i nostri libri di testo che sono dei libri molto molto validi e soprattutto vi voglio dire che non basta soltanto la nostra video lezione, bisogna fare anche poi gli esercizi, gli esercizi che servono a impratichirsi e a portare a casa un bagaglio di parole, di termini e perché no ad essere un pochino più sgamati nel parlare e nel muoversi con la lingua inglese. Ecco questa è una parte che noi non possiamo fare, non vi posso seguire a casa con i vostri esercizi, è lasciata a voi e voi quindi dovete cercare di fare del vostro meglio per fare tutto ciò che vi è richiesto e perché no, per essere anche un po' curiosi perché la lingua inglese ha tanto da dare. Ora andiamo a vedere why we are here perché siamo qui e siamo nella week 2, settimana numero 2. Il nostro claim, il nostro motto, let's fight together again, significa combattiamo insieme di nuovo, ha un'aggiuntina, droplet week 2. Ma io ho preso questa parola perché? Perché l'ho sentita in giro e nessuno di voi si è chiesto cosa vuol dire droplet. Droplet in realtà in inglese è la gocciolina. Questa è la settimana della gocciolina, bisogna cercare di stare un po' lontani dagli altri per cercare di ridurre il contagio. Questa è una regola importante, specie in caso di virus che girano, non stare mai troppo attaccati dagli altri. Quindi, droplet rule, minimum distance to be kept in public places is one meter. Quindi, regola droplet, la distanza minima da tenere in posti pubblici è di un metro. Però, non ve l'ho riportata così tanto per darvi un'indicazione semplicemente sanitaria, ve l'ho riportata per farvi capire un'altra cosa. Quanto è importante la lingua inglese? Anche qua, in questo momento, in una situazione come questa, l'inglese entra prepotentemente nelle nostre case, nelle nostre vite. Tante parole vengono dalla lingua inglese, tramite delle regole, tramite dei cambiamenti. Si chiamano calchi semantici, si chiamano prestiti semantici. Non stiamo a vederli, non fa parte di questa lezione, di questo momento. Ma sappiate quanto l'inglese entra nelle vostre case, nelle vostre vite ogni giorno. E quindi, perché non conoscerlo? Andiamo a vedere oggi una cosa importantissima, ed è il comparativo di maggioranza. A cosa serve? Serve per paragonare persone e cose luoghi. Abbiamo tanto l'inglese, abbiamo studiato tanto, abbiamo fatto tanto, ma c'è qualcosa che non abbiamo ancora fatto. i paragoni. E i paragoni fanno parte della vita di tutti i giorni. Il tuo libro è più nuovo del mio. La sua macchina è più bella. Il mio cane è più grosso. Il tuo gatto è più rumoroso. La mia moglie è più simpatica. I miei amici sono più figli. La tua vita è più bella. La mia playstation è più potente. Il suo computer è più potente. Il mio telefono è più brutto, è più vecchio. Quante volte lo usiamo ogni giorno? Sempre, spessissimo. E allora perché non fa l'inglese? Andiamo a vedere come si fanno. Comparativo di maggioranza. Si fa. Per aggettivi monosillabi, attenzione, monosillabi, ovvero brevi, attenzione, brevi, si mette l'aggettivo che avete scelto. Per esempio, old, vecchio. Si aggiunge er e poi si mette than, di. Esempio, I'm older than her. Sono più vecchio di lei. Negli aggettivi, attenzione, lunghi, e ho messo lunghi, con due o tre sillabe, invece di mettere quella er, mettiamo more, seguito dall'aggettivo lungo, cioè di più sillabe, seguito da than, di solito, e poi il resto della frase. She is more intelligent than me. Lei è più intelligente di me. E voi direte, ma prof, ma io come cavolo faccio a sapere qual è un monosillabico e qual è invece un aggettivo con più sillabe, con due o tre sillabe? Beh, ragazzi, ma ragioniamo, vediamo come sono, come sono i, come sono fatti gli aggettivi in inglese. Ci sono quelli brevi. Guardate qua. Old. Si capisce che è di una sillaba. Old è una sillaba. Per l'inglese è una sillaba. Old. Quindi sarà older. Facile. Cheap, economico. Cheaper. Perché? è una sillaba. Oppure monosillabici che terminano in i, si aggiunge la r. Ovviamente, se c'è già la e, aggiungiamo semplicemente un r. Nice. Carino, simpatico. Nice. Safe. Sicuro. Safer. E aggettivi che terminano in y? Abbiamo da eliminare la y e aggiungere i, 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 r. Quindi, happy diventa happier. Easy diventa easier. E poi aggettivi che terminano in vocali più consonante, ma vi verranno automatici, ragazzi, state tranquilli. Hot. Non dovete dire hotter. Farebbe schifo. Dite hotter. Perché bisogna sentire quella t. Idem big. Non dite bigger. Dite bigger. Più grande. So, she is bigger than me. Lei è più grande di me, dal punto di vista di dimensioni. Oppure, it's hotter. È più caldo. Ok? Quindi la logica è, gli aggettivi monosillabici, quindi gli aggettivi brevi che avete visto qua, hanno E-R più than più il resto della frase. Ripetete con me. E-R più than più il resto della frase. E-R più than più il resto della frase. E invece aggettivi di due o tre sillabe, quelli lunghi, hanno more più l'aggettivo, più than più il resto della frase. Quindi more più than più il resto della frase. E allora, intelligent, cosa sarà? Intelligent. Pensate a quanto è lungo. Un monosillabico? Non penso proprio. Quindi si dirà, I am more intelligent than you. Sono molto più, sono più intelligente di te. Questo è ancora da vedere. Idem, tante altre cose. Ora, aggiungiamo di nuovo lo schemino degli aggettivi, che adesso li vediamo bene, con due o tre sillabe, quelli lunghi. E quindi abbiamo modern, modern. Sentite che sono due sillabe. Mo-derne. Mo-terne. Quindi sarà more modern. Intelligent. Intelligent, ovviamente, sarà more intelligent. È lungo. E poi, aggettivi irregolari, attenzione, e questi li dobbiamo vedere più avanti, ma bene, non facciamoci fregare, possono essere good, bad, far, che sono buono, cattivo, lontano, e hanno la loro forma differente. Quindi c'è sempre qualche eccezione. E noi dobbiamo stare attenti a non farci fregare. Good, better, è meglio. Bene, good, better, è meglio. Bad, cattivo, worse, peggio. Far, lontano, farther, più lontano. Questa è una cosa molto importante. Comunque, ricordatevi, monosillabici, aggettivi brevi, er e then. Due o tre sillabe aggettivi lunghi, more e then. Ok? Quindi questa è la soluzione. E l'aggettivo, l'aggettivo, la posizione dell'aggettivo, ovviamente, se dovete aggiungere una er, lo mettete prima. Se dovete mettere more, l'aggettivo lo mettete dopo. Non mi sono dimenticato di dirvi questo piccolo dettaglio fondamentale. E ora, vediamo gli esempi. Aggettivi brevi, monosillabici, non scelti tre. Big, small e cheap. Quindi, this house is bigger than the garage. Grazie, grazie all'accidente. Questa casa è più grande del garage. A mouse is smaller than an elephant. Un topo è più piccolo di un elefante. Questa è la fiera dell'ovvio. Però è importante, guardate come lo uso, guardate bene la parte rossa. E poi, my shoes are cheaper than yours. Le mie scarpe sono più economiche delle tue. Aggettivi lunghi, due o più sillabe. Ho scelto intelligent e difficult. Intelligente e difficile, perché li sapete più o meno tutti. E quindi, he's more intelligent than me, egli è più intelligente di me. Vedete, more, e poi l'aggettivo lungo. E poi than. Idem, your test... Oh, ho sbagliato qua. Oh, ho sbagliato, c'è un errore. Your, dovete leggere, questo eliminatelo. Yacht. Yacht non esiste in inglese. Your test is more difficult than mine. Il tuo test è più difficile del mio. E questo capita spesso. Quindi, abbiamo fatto un esercizio. Qua, proviamo insieme. Ho fatto un round one fight. Quindi, un combattimento tra due oggetti. Ho a sinistra una macchina bruta, spiegata, vecchia, ma molto simpatica. E a destra una macchina stupenda, una Lamborghini, una macchina da corsa. Che caratteristiche hanno secondo voi queste due macchine? Allora, una è più vecchia, sì. La Simca, la macchina che vedete a sinistra, è una macchina vecchia, è una macchina degli anni settanta. È una macchina che è divertente, piccolina, si parcheggia dappertutto. Vediamo come fare. Io direi... Pensate anche voi a qualcosa, pensate a qualcosa. That car, la Lamborghini, è una macchina è molto più veloce, accidenti. È molto più veloce, accidenti. È più veloce, fast. This car is... Ah, ragazzi, non ho idea. Procedete voi? Lo fate voi a casa? Mi dite che cosa c'è di differenza tra le macchine? Ce ne sono un botto di differenze. Ce ne sono tantissime sulle dimensioni, sulla bellezza. Beautiful. Hey, beautiful si può usare. È un aggettivo ovviamente lungo, ha più sillabe. Beautiful. Quindi, come starà? Metteremo more beautiful. This car is more beautiful than this one. Questa macchina è più bella di questa. Capite come funziona? Abbiamo fatto un esempio per farvi capire, in questo piccolo contest, come si possono fare le comparazioni di cose. Ed è molto importante che anche voi proviate, vedete due oggetti che non c'entrano niente uno con l'altro, vabbè, che hanno qualcosa in comune devono averlo, no? Più o meno. E provate a fare la stessa cosa con gli aggettivi che conoscete. Fatelo nella mente. E poi vedete il risultato. Piano piano imparerete che utilizzando un certo aggettivo, aggiungerete quella famosa er e poi than. Utilizzando altri aggettivi, quelli lunghi, utilizzerete naturalmente, sempre più naturalmente, more than. Ok? Questo direi, ragazzi, che per oggi era tutto. Sono felice di essere stato con voi. Sul mio canale, Ema Video Works, troverete le lezioni accessibili tramite link, accessibili tramite link, che abbiamo fatto insieme. Potete vederle, ripassarvele. Ugualmente troverete gli esercizi da fare sul vostro registro elettronico. Chi vuole continuare a seguirci, lo faccia. Io vi auguro una serena settimana e grazie. A presto. Bye bye, guys!